Adesso facciamo la ganache. Avremo bisogno di 150 g di cioccolato bianco, 150 g di panna liquida e i semi di un baccello di vaniglia. Per prima cosa dobbiamo mettere a sciogliere la bagnomaria e il cioccolato bianco. Poi mettiamo a scaldare la panna. Ed infine tagliamo il baccello, poi togliamo i semi e li inseriamo nella panna. Ecco fatto. Nel frattempo il cioccolato si è sciolto. Il latte è bello caldo e non deve bollire. Versiamo il cioccolato in una ciotola e poi versiamo la panna poco alla volta. Prima rivestiamo un po'. Poi ancora un po'. E poi infine il resto. Ora lasciamo riposare la crema in frigo per almeno mezz'ora. Ecco qui la nostra ganache pronta. Ora ci diamo ancora un po' di una passata con le pezze. ora mettiamo la ganache nella nostra stessa capoche con una bocchetta di 10 mm. Ok, ora riprendiamo i nostri gusci. Ne giriamo la metà. e poi mettiamo la ganache. Ecco fatto. Ora l'altra metà la mettiamo sopra. Ecco qui i nostri macarane. Li assaggiamo. Mmm buonissimi! Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Ciao! Ciao!